Anticipazioni My On My Destiny dal 28 agosto al 1 settembre 2023 Amori, conflitti e decisioni difficili Lunedì 28 agosto 2023 Il mondo di Zeynep viene scosso quando decide di confessare i suoi sentimenti a Medi mentre lui si trova in una situazione critica e potrebbe non avere molto tempo Ma il drama non si ferma qui Sultane e Mine vengono a conoscenza della nuova residenza di Vena, ospitata da Nermin e la notizia le manda su tutte le furie Questo perché le donne hanno ancora fresco il ricordo di quando, in passato Benal aveva estorto denaro da loro con la promessa di iniziare una nuova vita lontano dal quartiere Promessa che, evidentemente, non ha mantenuto Decise ad affrontare Benal sia per il denaro sia per proteggere la relazione di Zeynep e Medi Sultane e Mine si recano da lei Ma non sono pronte per la fermezza di Benal Che rivendica il diritto di stare nella casa e le manda via Nel frattempo, il povero lo scopre che Faruk sta facendo la corte a Nermin Non riesce a contenere la gelosia e lo affronta Questo confronto verbale si intensifica rapidamente e pulmine in una violenta rissa Infine, Medi, che ha già tanti problemi, deve affrontare anche l'ira di Zelia La donna è ancora amareggiata per il comportamento di Medi riguardo la sua storia con Benal e decide di tagliare ogni comunicazione con lui Una settimana densa di emozioni ci attende Non perdete le prossime puntate di My On My Destiny per scoprire come queste storie continueranno a intrecciarsi e evolversi Anticipazioni My On My Destiny dal 29 al 30 agosto 2023 Amore, tragedie e confessioni emotive Martedì 29 agosto 2023 La vita a Istanbul è sempre densa di intrighi e passioni Mentre Mete intuisce che Termina possa aver scoperto qualcosa sulla sua relazione segreta con Emine e decide di condividerlo con la sua amante Faruk non perde tempo e prosegue il suo corteggiamento di Nermin La loro vicinanza cresce, culminando in una cena romantica, dove, sotto l'effetto dell'alcol, confessano i loro sentimenti reciprochi Medi e Zeynep, d'altro canto, attraversano un periodo turbolento, principalmente a causa del passato irrisolto di Zeynep con Benal La mancanza di sincerità tra loro alimenta dubbi e tensioni Ma un evento sconvolgente cambierà tutto Medi si ritrova in mezzo a una violenta rissa in difesa di Barr, accusato ingiustamente di furto Nel tentativo di proteggere suo suocero, Medi viene gravemente ferito da una coltellata e ricoverato in ospedale Mercoledì 30 agosto 2023 Il dramma di Medi si intensifica quando, in condizioni critiche, viene sottoposto a un urgente intervento chirurgico I medici, realizzando la gravità della situazione, preparano Zeynep al peggio Nel frattempo, Bayram, pur essendosi salvato dalla rissa, viene minacciato da alcuni malintenzionati che lo avvertono delle conseguenze se decidesse di rivolgersi alla polizia Ma la vera tragedia arriva quando confessa a sua figlia di essere la causa dell'attacco a Medi Questa rivelazione scatena una tempesta di reazioni, culminando con Zeynep che, soprafatta dalla rabbia, attacca sia Vaira che sua madre In mezzo a tutto questo caos emotivo, Zeynep, in un gesto di disperazione e affetto, chiama Zeynep mamma per la prima volta Emozionata, Zeynep consente a Zeynep di trascorrere del tempo da sola con Medi in terapia intensiva Anche se lui è inconscio, Zeynep gli parla con tutto il cuore, dichiarando il suo amore incondizionato e sperando che lui possa sentirlo e rispondere Una settimana ricca di emozioni, tensioni e dramma ci attende Rimanete sintonizzati su My On My Destiny per scoprire come si sviluppano questi straordinari eventi Anticipazioni My On My Destiny, giovedì 31 agosto 2023, tensioni, accuse e solidarietà in ospedale Giovedì si preannuncia una giornata densa di emozioni e sconvolgimenti a Istanbul Mentre Medi giace in ospedale, la sua condizione non mostra segni di miglioramento I medici, vedendo l'evoluzione critica del suo stato, non possono fare altro che consigliare alla famiglia di prepararsi a qualsiasi eventualità La situazione si complica ulteriormente quando viene evidenziata la necessità di sangue compatibile per eventuali trasfusioni Questo mette Zeynep e la sorella di Medi in una corsa contro il tempo, cercando disperatamente donatori che potrebbero salvare la vita di Medi In mezzo alla tensione e all'ansia, Zeynep deve anche affrontare l'aggressività di Mujgan Soffocata dal dolore e dalla frustrazione, Mujgan accusa Zeynep di essere la causa dell'intero disastro Se Medi non avesse avuto la necessità di proteggere Bayram, non si sarebbe mai trovato in quel luogo, in quella fatale rissa Nel bel mezzo di questa situazione travolgente, Mujgan e sua madre si ritrovano in un dialogo emotivo, riaprendo vecchie ferite e affrontando le tensioni passate Zeynep, invece, trova un po' di consolazione in Emine, che si mostra comprensiva e la rassicura sul fatto che le sue intenzioni nei confronti di Medi erano sincere e pure Una luce di speranza illumina la giornata quando si scopre che Kerem ha lo stesso gruppo sanguigno di Medi Emine, conscia della situazione disperata, esorta Kerem a unirsi agli altri e donare il suo sangue In una dimostrazione di solidarietà commovente, molti abitanti del quartiere si mobilitano e affollano l'ospedale, offrendo il loro sangue in segno di sostegno per Medi Rimanete con noi per vedere come si sviluppa questa coinvolgente trama e quale sarà il destino di Medi in My On My Destiny Anticipazioni My On My Destiny, venerdì 1 settembre 2023, verità nascoste e speranza Il primo giorno di settembre porta con sé ulteriori svolte e suspense Cemile, profondamente preoccupata per la situazione di Medi, decide di affrontare Benal Le chiede direttamente se ha abortito, essendo consapevole che, se Medi dovesse perdere la vita, il figlio che Benal porta in grembo rappresenterebbe l'ultimo legame con lui Nel frattempo, Zeynep è devastata La preoccupazione per Medi la assale, al punto che non riesce a mangiare Il suo amore per lui è evidente e palpabile D'altro canto, Emine cerca conforto nella saggezza di sua madre, Sultan Dopo una riflessione approfondita, decide di perdonare Faruk I due, cercando un po' di serenità, si concedono una pausa romantica in barca, deliziandosi con dei gustosi frutti di mare Tuttavia, un malinteso si fa strada, Emine, toccata dalle parole appassionate di Faruk, è convinta che lui stia per proporle matrimonio A complicare ulteriormente le cose, Zeynep si insospettisce quando vede Benal uscire dalla stanza di Medi all'ospedale Questa visione alimenta il suo sospetto che Benal nasconda un segreto Le notizie dall'ospedale non sono incoraggianti, Medi rimane in terapia intensiva, e il medico suggerisce a Zeynep di salutare suo marito Con il cuore spezzato, Zeynep si avvicina a Medi, e in un gesto di pura emozione, gli accarezza la testa e gli confida tutto il suo amore Miracolosamente, Medi si sveglia Ma c'è un colpo di scena, non ricorda nulla di quello che Zeynep gli ha detto, nemmeno la rivelazione shock riguardante Benal La puntata si conclude lasciando agli spettatori una domanda bruciante Questa tragedia avvicinerà Medi e Zeynep, o metterà ulteriore distanza tra di loro? Attendiamo con ansia i vostri pensieri e commenti su questa trama coinvolgente